cioè i supporti benvenuti a tutti io sono Davide Giacomo piacere e saremo le vostre guide per questa vista virtuale all'esperimento di CMS ho sentito che prima c'era una domanda ma non preoccupatevi perché avremo molto tempo anche più tardi per rispondere a tutte le vostre domande quindi possiamo riprenderla dopo iniziamo con una piccola introduzione rispetto a dove siamo e cosa faremo oggi non so poi diciamo quante introduzioni vi abbiano già fatto Andrea e Raffaele in questa ora precedente poi magari poi ce l'ho aggiornata così andiamo direttamente al punto a mostrarvi il detector allora in questo momento ci troviamo all'interno di una delle diciamo uno degli anger esatto dove CMS è stato costruito in superficie adesso poi dalla regia vedrete che faranno vedere anche il posto dove siamo in questo setup quasi cinematografico tra poco appunto scenderemo scenderemo nel tunnel nel tunnel di LHC in particolare scenderemo nella caverna sperimentale dell'esperimento CMS e vi faremo vedere dal vivo di cosa è tratta e appunto come è stato costruito come come è posizionato che cosa facciamo qui al CERN in questo in questo particolare esperimento ma mi chiede se possiamo avere un'immagine del PCMS giusto giusto per iniziare direttamente con il bot not yet ok suspense quindi piacere appunto eccoci abbiamo la seconda telecamera quindi ci troviamo proprio sul bordo se volete del pozzo da qui è stato calato CMS all'interno dell'acceleratore e quindi dietro di noi a fianco di noi vedrete che viene inquadrato l'enorme pozzo poi ci avvicineremo vi spiegheremo tutto più tardi giusto giusto per capire per conoscervi meglio voi siete una classe delle superiori giusto che di che anno siete giusto per avere un'idea sono mix quarto e quinto superiore perfetto perché liceo quale liceo sono otto licei differenti milano lecco bergamo perfetto scientifici va bene anche i classi non facciamo discriminazione per il background ok ci presentiamo ancora un secondo prima iniziare allora ciao sono Giacomo in questo momento lavoro per l'università degli Stati Uniti sono qui al CERN ormai da otto anni quasi e ho partecipato all'esperimento in particolare al sottodetector di ECAL non so se ve l'hanno già presentato un sottodetector all'interno di CMS e niente farai la nostra guida di superficie oggi ogni volta che c'è bisogno di coprire dei silenzi radio dalla nostra guida che invece si muoverà nel sottosuolo ci sono io quindi vi posso presentare slide oppure posso rispondere alcune domande invece appunto sono Davide piacere sono un postdoc del poitecnico di Zurigo e ho fatto diciamo tutto il dottorato in università di Milano Bicocca insieme ad Andrea Raffaele e a Giacomo e mi trovo anch'io qui al CERN per la voglia di esperimento CMS anch'io con un particolare focus al calorimento elettromagnetico che è uno dei diversi pezzi che costituisce il rivelatore. Li parleremo chiaramente anche degli altri pezzi non solo del nostro preferito. Allora inizierei con una breve una breve introduzione poi Andrea Raffaele diteci se possiamo andare più veloci se avete già parlato di queste cose intanto possiamo iniziare. Zoltan can we share the skin it's already share perfect. Questo è la visione dall'alto la visione aerea se volete dell'aria in cui ci troviamo vedete in lontananza sullo sfondo il Monte Bianco che se volete la montagna più alta d'Europa che ci fa anche da sfondo alla regione di Ginevra quello che vedete poi sullo sfondo è sempre il lago di Ginevra in alto a destra la città la città di Ginevra in Svizzera. Noi però ci troviamo a CMS che non so se riuscite a vederlo ma è sulla sinistra quel puntino sulla sinistra che è all'estremità opposta della sede principale del CERN Ameran che è invece nel punto a destra già come lo sta indicando col puntatore in rosso. Tutto questo anello che vedete molto grande che copre una superficie molto grande al confine tra Francia e Svizzera è l'acceleratore di LHC questo enorme acceleratore di protoni che fa collidere pacchetti di protoni ad alta energia 13 tere elettronvolt nel centro di massa in quattro diversi punti che sono i quattro diversi esperimenti che sono collocati lungo il tracciato di LHC. A sinistra abbiamo appunto CMS dove ci troviamo cosiddetto punto 5. A destra invece abbiamo ATLAS che è l'esperimento amico e diciamo rivale del competitor. Facciamo lo stesso tipo di esperimenti ma in modo diverso per poi poter confermare o ribaltare i risultati se volete. E poi abbiamo LHCB e ALICE, altri due tipi di esperimenti che fanno un tipo di fisica, un tipo di misure leggermente diverso ma comunque sempre proveniente dalle collisioni diciamo create grazie all'acceleratore di LHC. E poi abbiamo anche diversi acceleratori più piccoli che fanno se volete la rampa di lancio per i protoni presenti all'interno dell'HC che vedremo più tardi. Ora, questo qua è appunto il complesso di acceleratori del CERN. Non è solo un acceleratore, non dovete pensare che noi possiamo partire se volete da 0 a 100 con questi protoni e portarli da una semplice bottiglia se volete di idrogeno ad avere 13 tere elettronvolti. Bisogna passare in diversi step. Quello che è stato fatto dal CERN negli anni è stato quello di costruire una serie di acceleratori sempre più potenti e di utilizzarli uno dopo l'altro come un trampolino di lancio. Quindi si parte con un cosiddetto LINAC, acceleratore lineare, che porta i protoni a una certa energia abbastanza bassa e poi dopo un proton synchrotron, un super proton synchrotron fino ad arrivare all'LHCB. In futuro magari LHC sarà usato anch'esso come rampa di lancio per un acceleratore futuro che in progettazione al momento è chiamato Future Collider che dovrebbe essere lungo 100 km, quindi un altro ordine di grandezza più grande, e utilizzare se volete LHC come raggiungere l'energia di 100 tere elettronvolti, che è un'energia mai stata raggiunta dall'uomo. Non vorrei entrare troppo nel dettaglio adesso perché vorrei appunto andare il prima possibile nella caverna, mostrarvi il rivelatore dal vivo. Magari ancora un paio di slide giusto per capire dove stiamo andando e poi lascerò a Giacomo la parola mentre noi appunto ci prepariamo a scendere. Questo se volete è la stessa visione di prima ma anche con il sottosuolo e questo è proprio quello che andremo a esplorare oggi perché l'acceleratore non si trova in superficie, è pieno di piccoli paesini francesi, quindi è un po' difficile lasciarlo in superficie, ma invece è a 100 metri sottoterra. Noi adesso ci troviamo in superficie in questi hangar dove c'è messo stato costruito e poi i diversi pezzi sono stati spostati, calati all'interno di questi pozzi fino a raggiungere la superficie dell'acceleratore, cioè a meno 100 metri. Adesso andremo e vedete anche gli altri esperimenti sono anch'essi a meno 100 metri e tutti sono collegati con dei pozzi. L'SPS vedete che è un acceleratore dell'SPS, è una profondità leggermente inferiore mentre i primi acceleratori del CERN sono invece in superficie, quindi se volete le particelle vanno in discesa sempre di più fino ad arrivare all'HC. Comunque le particelle sono guidate all'interno dell'acceleratore da magneti e quindi diciamo se volete essere in discesa in salita non fa alcuna differenza perché è il campo magnetico che le guida. Questo è un piccolo spaccato di come funziona, diciamo, dei quattro diversi rivelatori e dell'acceleratore nel centro. Se volete l'acceleratore è un sistema separato dagli esperimenti, cioè l'acceleratore permette di accelerare e portare queste particelle a essere focalizzate nel centro dei nostri rivelatori e poi nel punto di collisione attorno adesso costruiamo queste enorme macchine, queste vanno a rivelare cosa succede quando due protoni si scontrano. Vedete che hanno tutte colori e forme diverse e non è solamente un motivo estetico per l'outreach, ma è importante perché in questo modo possiamo fare degli esperimenti che cercano la stessa cosa, cercano lo stesso, diciamo, di capire lo stesso processo fisico, ma in modo diverso. In questo modo si possono evitare di avere gli stessi problemi, di avere gli stessi errori o di prendere gli stessi abbagli. Ed è per questo che CMS e ATLAS, ad esempio, sono entrambi esperimenti general purpose, quindi fanno un tipo di fisica molto generale che possono esplorare un serie di processi molto diversi tra di loro, ma confrontano sempre i loro risultati per cercare di essere compatibili e cercare di verificare l'uno risultato dell'altro. Alice e l'HCB sono leggermente più piccoli e fanno un tipo di fisica leggermente più ristretta, ma anche molto importante che in modo diverso da CMS e ATLAS, ad esempio l'HCB si trova solamente da un lato, diciamo, del punto di collisione ed è stato costruito per studiare in particolare le interazioni dei adroni con quark B, Beauty, e Alice invece è stato costruito in particolare per studiare le interazioni tra nuclei pesanti. Infatti una settimana all'anno l'HCB non fa solo quelli dei protoni, ma anche nuclei di piombo o di altri nuclei pesanti. E io lascerei adesso la parola a Giacomo che magari inizia a raccontarvi un pochino dei diversi strati di CMS e di come mai sono fatti in questo modo e raccontarvi questo genere di cose, mentre io mi preparo a scendere e ci vediamo nella stanza dell'ascensore. Ok? Se avete qualche domanda nel frattempo penso che Giacomo possa rispondere già. Non so se voi volete usare il question and answer o farle direttamente. Se avete domande fatele che poi... Prego, mi hai bruciato già alcune delle slide che volevo utilizzare, ma va bene. Iniziamo con le domande, magari sulle slide che abbiamo mostrato, se volete, o domande che avete in sospeso già da prima. Arrivano una domanda. Va bene. Volevo chiedere perché i quattro punti di ricerca sono così distanti l'uno tra l'altro. Fammi tornare alla slide. Questione di comodità, diciamo. Non era fattibile metterli troppo vicino e era necessario avere una zona di riaccelerazione delle particelle e tenerli separati quindi tra di loro. Grazie. Se vuoi aggiungo una cosa. Il problema è che dove metti gli esperimenti hai bisogno di cambiare la focalizzazione dei fasci di particelle. Immagina un fascio di particelle che viene... Puoi gestire quanto questo è stretto o largo attraverso una serie di magneti che equivalgono a delle lenti ottiche nel caso in cui tu hai a che fare con la luce visibile. e quindi ci sono anche, diciamo, delle ragioni di stabilità del fascio che vuoi preservare. E poi magari dipende anche da analisi geologiche del terreno. Cioè adesso non sono un ingegnere civile, quindi non lo so nello specifico. È stata scelta l'aria, è stata scelta la profondità anche per minimizzare il fatto di passare attraverso delle zone dove la roccia è più dura perché ti costa diversamente anche creare l'infrastruttura. Abbiamo altre due domande. Prego. Volevo chiedere, dove verrà costruito questo acceleratore ancora più grande, quello da 100 km? Allora, l'idea è sempre di costruirlo nella stessa zona perché, come aveva spiegato Davide, LHC fungerà da acceleratore per le particelle che poi verranno iniettate nel Future Collider. Non sono sicuro se vedete il puntatore nelle slide, ma l'idea sarebbe costruirlo partendo sempre da questa zona e abbraccerà, andrà oltre, diciamo nella direzione del Monte Bianco, passerà addirittura sotto il lago e per poi riunirsi alla zona principale del CERN. Sarà lungo 100 km e non sarà banale come impresa. Interrompo le trasmissioni per iniziare a farvi vedere il nostro accesso. Chiaramente non è che si possa passeggiare all'interno dell'HC e diciamo entrare nell'ascensore e scendere semplicemente nella caverna, ma c'è un complesso sistema di sicurezza. Se volete a livello di una centrale nucleare, non perché all'interno del nostro esperimento ci siano non perché sia simile a una centrale nucleare, ma semplicemente perché appunto quando l'acceleratore è attivo, è radioattivo, quindi produce da radiazione e quindi non è possibile entrare. E se una persona deve entrare all'interno, l'intero acceleratore deve essere spento. Quindi è necessario avere un completo controllo del numero di persone e dell'identità delle persone che sono all'interno della struttura. Per questo entriamo con questo dosimetro passivo che comunque registra la dose di radiazione che in questo momento è nulla, ma tutti i laboratori del CERN sono tenuti ad averne uno, ma è che viene anche utilizzato per identificarsi e entrare all'interno della struttura. Adesso vedrete che c'è un controllo anche della retina, proprio come nel film di Dan Brown. Quella è l'unica parte del film che è davvero realistica. Quindi vedete che in questo momento la porta dietro di me si chiude per assicurarsi che io sia una persona sola. E il sistema ora sta facendo una fotografia del mio occhio per decidere... Speriamo... I have to redo it. Spesso non funziona che devo togliere gli occhiali. Non è banale. È un sistema molto severo. Alcune volte ci ritroviamo a farlo anche cinque volte di fila per farci accettare. Ok, perfetto. Ora facciamo entrare anche la nostra cameraman. La nostra cameraman e a questo punto potremo scendere con l'ascensore. Nel frattempo magari io vado a chiamare l'ascensore e comunque deve fare qualche piano per raggiungerci. Voi mi sentite bene? Io vi sento abbastanza. Sul nostro lato sì, ci sentiamo. Ti vediamo un po' a scatti. L'unica cosa. E la connessione... Adesso vedremo se è possibile migliorarla. Perfetto. Ci troviamo all'interno ora, se volete, della colonna dell'ascensore. Come potete vedere è una colonna di cimento armato completamente separata dal resto dell'ambiente. Questo perché crea un ambiente sicuro anche all'interno della caverna, in cui l'atmosfera è controllata. Abbiamo una pressione negativa verso l'esterno, cioè una pressione negativa che spinge l'aria verso l'esterno e che quindi in caso di incendio, in caso di fumo, di perdita di ossigeno, ci permette di rimanere sicuri all'interno di questo par dell'epipido che contiene l'ascensore. L'ascensore è questo. In questo momento sta salendo. Vedete che siamo quasi, siamo a meno tre metri. E andremo fino a circa meno 89 metri, che è il secondo piano all'interno della caverna di CMS. Quindi ora seleziono minus two. Qui andremo al meno due. Come potete vedere non abbiamo moltissimi piani, ma all'interno della caverna di CMS abbiamo comunque tre diversi livelli. e ora ascenderemo. Perderemo la connessione ora probabilmente. Ecco, infatti. Molto preciso. L'ascensore è lo stesso che viene utilizzato poi per i vari team che devono operare nella caverna. Ce ne sono anche altri nel caso, è uno dei principali. Perché l'ascensore deve essere più sicuro? Perché se in caso di incidente, non ci sono mai stati fortunatamente, ma in caso di incidente effettivamente è l'unico modo per tornare in superficie. Ok, possiamo prendere delle scale, in caso proprio estremo, ma sono comunque 100 metri di scale. e ti voglio vedere, vi voglio vedere farle di corsa, mentre c'è un pericolo sotto. Quindi l'ascensore, come diceva, è considerata la parte più sicura. Adesso così lo puoi smutare. Mi sentite? Scrivi a Giacomo. Giacomo, un secondo perché... Ci sono domande dalla sala? O problemi? Abbiamo problemi di audio. Non ci sentite? Prova, prova. Dalla regia ci dicono che è tutto ok sul nostro lato. Fateci sapere. Noi vi sentiamo. C'è un altro link? Ah, no, ti puoi fare la condivisione con quello, va bene. Come fai? Vieni questo. Ci sentite voi? Siamo tornati? Sì, un secondo. Proviamo a cambiare computer. Ok. Mi servono di raccogliere. Stanto Davide sta scendendo, è giusto? Siamo giù, mi sentite? Ok, no, aspetta un secondo. Un attimo perché stanno cambiando il computer. Hanno qualche problema. No, vi accingi in veri computer on Versailles, I don't know why. Allora, mi serve l'HDMI da qua. Hai ear music? Non solamente per il tela, per il resto e l'audio. C'è un po' di eco. Non so da chi sta arrivando. Ok. Allora io posso ricominciare. Datemi un ok. Ancora un buon secco. Ok. 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 ok dobbiamo sentire mi sentite aspetto un vostro ok vai davide ti sentiamo siete pronti perfetto allora rieccoci siamo a meno 90 metri nel sottosuolo sempre all'interno della colonna dell'ascensore e adesso ci sposteremo all'interno della caverna di servizio siamo non so se già come aveva già parlato ma siamo per adesso solamente nella caverna di servizio quindi la caverna laterale che contiene tutti i sistemi di se volete elettronici alimentazione cooling sistemi a gas che permettono a cms di funzionare in particolare adesso passeremo all'interno del cervello di cms quindi quello che mantiene se volete attiva e funzionante la presa dati cioè l'acquisizione delle letture dei sensori che misurano il passaggio delle particelle all'interno dell'esperimento in questa caverna che adesso vedrete piena di cavi piena di computer di schede elettroniche quello che succede è il primo filtraggio infatti i protoni all'interno di i pacchetti di protoni all'interno di cms si scontrano a una velocità pazzesca a circa 40 milioni di volte al secondo ogni 25 nanosecondi e quindi è impossibile per noi leggere tutti i sensori che abbiamo all'interno della macchina e abbiamo all'incirca qualche storia anche solamente per il tracciatore interno ne abbiamo proprio le fibre ottiche veloce veloce abbastanza per riuscire a leggere tutti questi dati che sono all'incirca un petabyte al secondo all'esterno del rivelatore quindi abbiamo abbiamo costruito questo sistema che è in grado di leggere una piccola quantità di informazioni e decidere se quell'evento è interessante o no se questo evento è interessante perché magari i protoni si sono scontrati hanno fatto qualcosa di interessante più interessante di semplicemente toccarsi e sfiorarsi allora possiamo leggere questi questi eventi e poi mandarli in superficie dove in superficie abbiamo un insieme di computer così la cosiddetto trigger di livello 2 che è in grado invece con un po più di tempo perché ormai gli eventi sono stati letti è in grado di ricostruire quello che è successo di guardare l'evento e vedere che è successo non so la creazione di un elettrone la produzione di un bosone z e decidere se ulteriormente se filtrare o no quell'evento è un po come quando voi avete tantissime fotografie sul vostro telefono ma sta definendo la memoria diciamo e quindi siete costretti per diciamo a cancellarne alcune il nostro caso diciamo il problema della memoria è molto accentuato perché appunto produciamo all'incirca 6 gigabyte al secondo di fotografie queste fotografie poi quelle che vengono filtrate vengono mandate al cern nella zona centrale dove abbiamo un sistema di stoccaggio uno storage basato su nastri proprio come le videocassette ma diciamo un po più un po più moderne che sono in grado di salvare terabyte e terabyte di dati in modo abbastanza conveniente e diciamo di tenerli salvati per sempre in modo tale che anche in futuro i fisici del futuro potranno riguardare questi dati e riutilizzarli questo è importante perché pensate questo esperimento è stato costruito circa 20 anni fa ed è in funzione sarà in funzione per altri 20 anni 20 30 anni ma se tra 50 anni un fisico vorrà farsi delle nuove domande riutilizzare questi dati non si potrà ricostruire di nuovo lo stesso esperimento quindi è importantissimo preservare questi eventi in modo diciamo permanente sul nastro quindi spostiamoci per vedere questa parte e pian piano ci avviciniamo alla caverna esperimentale qui volete vedere il fondo del di un altro pozzo non è lo stesso pozzo di prima è il pozzo cosiddetto anch'esso di servizio che può essere utilizzato per calare piccole attrezzature o per raggiungere la caverna di servizio anche mentre il la presa data in corso questo perché la caverna di servizio è separata dalla caverna sperimentale da circa 7 metri di cemento armato e quindi la mantengono non radioattiva anche quando sono in corso le collisioni e come potete vedere poi ci sono queste paratie che possono essere chiuse in modo tale da isolare l'ambiente sperimentale nel mentre ci sono le collisioni spostiamoci quindi nella county room ci sarà un po di rumore perché appunto sono appunto l'evento il sistema di raffreddamento per i computer possiamo avvicinarci a possiamo entrare quindi siete fortunati perché nelle queste viste virtuali possiamo anche avvicinarci molto di più rispetto a una vista normale e e potete vedere ad esempio che cosa sono questi cosiddetti rack questi armadi se avviciniamo leggermente vedete che questi sono tutti cavi in fibra ottica che raggiungono il revelatore nella caverna sperimentale leggono se volete piccoli segnali elettrici e ottici che vengono mandati dal che corrispondono a una certa quantità misurata all'interno del revelatore come non so il passaggio di una particella quantità di energia che era all'interno di un cristallo e permettono di salvarlo ed elaborarlo e ce ne sono diciamo un intero cioè un intero appunto un'intera stanza piena di queste di queste schede e se invece ci avviciniamo al fondo al fondo della di questa di questa stanza possiamo notare l'enorme numero di cavi e che raggiungono attraverso dei dei fori la caverna sperimentale in tutte le direzioni e questo qua invece che vedete queste bombole è un sistema di sicurezza basato sulla co2 che permette di spegnere immediatamente qualsiasi tipo di incendio di fuoco che possa svilupparsi all'interno di questi di questi armadi e come potete vedere la complessità dell'intero sistema è enorme e ogni cavo è registrato in un database e diciamo possiamo risalire alla posizione precisa di ogni singolo cavo di ogni singola connessione non si tratta di un piccolo server si tratta davvero di un enorme mole di con le connessioni e e di cavi e in più in questa caverna non abbiamo solamente appunto i cavi in film ottica che leggono le informazioni registrate all'interno dall'elettronica del rivelatore ma abbiamo anche ad esempio il sistema di alimentazione come vedere in questo in questo angolo abbiamo queste scritte alta tensione abbiamo una serie di cavi che portano la corrente se volete al sistema muoni se non sbaglio chiaramente nessuno di noi può essere completamente esperto di ognuna di questi componenti però mi pare quelli siano per il sistema delle camere muoni ora scendiamo di un mezzo piano ci troviamo ora vicino alla cosiddetta gas room all'interno di questa stanza infatti abbiamo tutti questi contenitori ah we can go inside nice oh i have access ok buongiorno vista virtuale possiamo vedere all'interno di questa stanza tutta una serie di sistemi a gas che in questo caso sono necessari sia per diversi rivelatori e per diverse funzioni quindi tutto abbiamo il criostato del magnete che è il frigorifero che mantiene il magnete a bassa temperatura che gli permette di essere superconduttore questo deve essere mantuto freddo grazie a dei sistemi se volete di azoto liquido se non sbaglio addirittura il liquido non ricordo mentre tutto questo questo altro sistema non è per il magnete ma è per il gas che è necessario all'interno di alcuni strati di cms come ad esempio le gem che sono un particolare tipo di detector o le camere a fili csc rpc che invece sono rivelano la presenza di muoni all'interno delle camere a muoni ora non ci avviciniamo troppo perché appunto i tecnici stanno effettuando delle calibrazioni in questo momento siamo l'acceleratore fermo come vi avevano già detto e quindi diciamo è possibile fare degli aggiustamenti delle misure delle correzioni abbiamo qualcosa da vedere l'interessante mattia si mostri qualcosa veloce sì sì direttamente dall'italia niente allora lasciamo proseguiamo la nostra visita cappello e qui possiamo anche vedere un importantissimo segnale che il cosiddetto segnale di mancanza di caffè dei dottorandi quando questo diciamo quando questo segnale si accende è importante distribuire subito del buon caffè perché sennò appunto l'efficienza di dottorandi cala irrimediabilmente le analisi di cms poi vengono appunto peggiorano di qualità no a parte gli scherzi questo è un importante segnale che rappresenta la mancanza di ossigeno e in tal caso in caso venga appunto questo segnale si accende quando l'oliva di ossigeno scende sotto il 17 per cento se non sbaglio quindi ancora sufficiente per rimanere coscienti e scappare in verità poi come adesso vi mostrerò abbiamo siamo dotati di tutta una serie di sistemi di sicurezza per evitare il problemi in questi casi ad esempio nell'improvabile caso in cui ci sia una perda di gas o un'assenza di ossigeno abbiamo questo queste maschere si chiamano maschere per ossigeno che producono ossigeno chimicamente che si permettono di evacuare la zona di sicurezza nel caso in cui questo allarme venga acceso do we go inside before the group ok ora ci avviciniamo alla secondo livello se volete la caverna sperimentale e quindi dobbiamo fare un ulteriore check in se volete in questo caso il sistema è giallo proprio perché se volete il secondo livello e in questo in questo caso è importantissimo questo caso è importantissimo essere completamente sicuri che non ci sia nessuno all'interno della caverna sperimentale prima dell'inizio della presa dati chiaramente perché adesso perché nel momento in cui ci sono delle collisioni di protoni non viene creato nulla di radioattivo ma le particelle che riescono dalla collisione interagiscono con il materiale delle pareti il cemento armato il ferro vedrete che materiali che ci sono interagiscono con questi rendendoli attivi per un periodo temporaneo e quindi rendendoli radioattivi per un tempo limitato dopo circa qualche giorno mi pare dopo la fia delle collisioni invece la questa radioattività sbaglia e noi possiamo entrare a lavorare sul detector una curiosità vedete che questo corridoio che stiamo facendo è un corridoio a u e questo è sempre c'è un motivo molto semplice in questo modo le particelle prodotte all'interno della caverna non possono raggiungerci perché non curvano senza un campo magnetico quindi siccome le particelle vanno solo dritte questo semplice corridoio ci permette di avere un passaggio libero senza diciamo portoni di piombo ma che non viene raggiunto dalle particelle ora entriamo nella caverna sperimentale e ed eccoci allora eccoci qui finalmente siamo di fronte a cms che in questo momento si sta preparando a ricominciare con le collisioni quindi è già stato chiuso ora poi andremo al piano superiore e forse potremo appunto vedere meglio la sua struttura avere un colpo d'occhio diciamo sulla sua struttura ma in questo in questa prima parte che vedete in questo momento vedete parte dei rivelatori cosiddetti forward quindi molto in avanti molto vicini al fascio questo perché se notate che quel tubo questo tubo quello è il punto in cui le particelle arrivano dall'hc che si trova dietro questo schermo diciamo dietro questo questa parte il tubo delle particelle passa da qui e va all'interno del rivelatore dove dall'altra parte chiaramente c'è un altro tubo che arriva in questa direzione e si scontrano le particelle esattamente al centro di questo rivelatore ora let's go inside così facciamo vedere meglio ora adesso stiamo passeggiando lungo la direzione del rivelatore che potete vedere lungo all'incirca 35 metri mi pare è alto 15 a perfetto è aperto ok e qui vedete che invece da questo parte da questo lato c'è messo ancora aperto e quindi possiamo mostrarvi come è fatto all'interno sicuramente è più bello di far vedere solo il tappo ora a bellissimo si vede anche si vede dentro perfetto allora parliamo un attimo di come è fatto c'è messo allora volete vedere abbiamo camminato lungo la sua direzione se volete orizzontale perché c'è messo è costituito da molte fette diverse infatti era impossibile calare all'interno della caverna dal pozzo calare c'è messo intero anche perché uno è troppo pesante e due e non ci passa quindi era necessario far calare una fetta alla volta e ricostruirlo all'interno della caverna un altro punto importante di questo design è che in questo modo noi durante le pause dell'acceleratore possiamo aprire le diverse fette indipendentemente e andare a lavorare andare a diciamo toccare dei rivelatori cambiare delle parti cambiare dei cavi in questo momento vedete al centro si vede benissimo la beam pipe e questo tubo sottilissimo sottilissimo no nel senso i portoni all'interno sono costituiscono un faccio sottilissimo ma il tubo chiaramente per motivi ingegneristici deve avere un certo diametro non può essere infitto esattamente piccolo e raggiunge dall'endcap che è questa parte raggiunge il centro del rivelatore che è intuibile e si trova a qualche metro all'interno dell'ultimo punto che vedete qui tutta questa parte argentata con la carta stagnola fa parte del criostato del criostato del magnete e all'interno potete vedere questi strati che sono la parte esterna dei rivelatori che si trovano all'interno del magnete che sono i calorimetri e il tracciatore questi rivelatori sono all'interno del del magnete poi all'esterno tutte questa zona all'esterno della parte circolare sono le cosiddette camera muoni che sono le parti grigie all'interno delle parti rosse infatti le parti rosse sono semplicemente una struttura di sostegno di ferro che mantiene sia compatto il sistema sia mantiene il campo magnetico diciamo uniforme e all'interno tra le barre rosse abbiamo queste camere che misurano il passaggio di muori ora ci sono tantissime cose da dirvi adesso vediamo se posso interrompere un attimo non so se avete ancora la mia slide in vista ok perfetto allora giusto per spiegare un attimo con un modello in 3d prima davide è arrivato praticamente sul lato da davanti di cms e voi quello che avete visto era diciamo il tappo frontale più parte della pipeline che era scoperta poi la stessa la pipeline viene coperta con un ulteriore strato dopodiché davide ha incominciato a camminare sul lato di cms e voi avete trovato praticamente aperto una sezione diciamo più o meno qua qualche modo forse questa quindi questa zona qua era stata allontanata dal resto di cms e voi avete la possibilità quindi di guardare all'interno praticamente l'intera struttura del detector e praticamente quello che come funziona non so se avete presente quegli archivi o quelle librerie in cui avete gli scaffali che ruotano su binari e se volete accedere a un corridoio dovete ruotare una ruota e muovere l'intero scaffale più o meno il concetto è simile praticamente l'intero detector è compatto quindi tutto chiuso ma poi viene spostato e vengono creati dei corridoi delle aperture tra una sezione e l'altra in modo tale da dare l'accesso ai tecnici per fare ad esempio manutenzioni o upgrade controlli della situazione e poi ovviamente viene richiuso prima del della riattivazione uno dei grossi vantaggi è che mentre il detector è aperto comunque può essere acceso chiaramente non si parla di particelle in circolazione ma viene comunque acceso in modo tale che si possa studiare se funziona in maniera corretta se tutta l'elettronica risponde vai davide volevo solo mostrare visto che stai mostrando le feste che ad esempio qui è il punto di separazione tra il barrel che la parte centrale elenca poi tappi e anche se non si vede bene la separazione proprio perché vogliamo che tutte le strade siano poi vicini quando in corso la presa dati si può vedere l'immensa quantità di cavi che devono essere collegati a ogni detector ed essere anche in grado di muoversi indipendentemente quando le diverse fette si spostano tra di loro e tutti questi cavi se volete sono si spostano insieme alle fette del rivelatore e questo è anche quello che rende questo design molto particolare ora in mente giacomo per continuare a parlare noi adesso andremo sopra poi ti interrompiamo va bene non so se ve l'hanno anticipato è una cosa come 14 mila tonnellate di detector ok poi se vogliamo una buona parte data dal dal l'acciaio stesso che viene utilizzato per il il magnete ma comunque l'idea è che non è facile da spostare non so se vi hanno spiegato come funziona il quando questo andrea avete spiegato come funziona lo spostamento del detector durante le fasi di manutenzione no no ma è una cosa molto interessante infatti per spostare anche solo una fetta che pesa ovviamente svariate tonnellate quello che si è deciso di utilizzare sono cuscinette ad aria praticamente avete l'accesso ok ottimo stiamo entrando in zone che non scusami giacomo ti interrompo no no vai vai stiamo andando in zone che di solito non possiamo farvi vedere quando venite a visitare qui ma ci troviamo esattamente sul tetto dei cms adesso vedete che è come un piccolo una piccola palazzina di tre quattro piani e qua potete vedere il pozzo quindi giacomo tu adesso sei esattamente 100 metri sopra di noi ti salutiamo ti lancio giù qualcosa esatto e questo qua è il pozzo da cui è stato calato cms pensate che la parte centrale aveva solamente cinque centimetri di tolleranza da tutti i bordi ed è stata calata in otto ore all'incirca da un enorme gru e qui qui sul tetto possiamo vedere tutto una serie di scalette quindi i tecnici possono camminare sopra cms per andare ad aggiustare ad esempio a lavorare su questi rack su questi altri ennesimi armadi piedi di cavi che in particolare lavorano sulle camera buoni in particolare qua si può vedere benissimo la divisione di una fetta con l'altra non so se si vede dalla dalla telecamera che comunque sono diverse fette che poi vengono unite insieme qui credo che questo di tempio vedete sono dei sistemi invece con elio credo siano relativi a se non sbaglio non sono esperto di questa parte ma relativi al criostato del magnete veramente qui noi non possiamo proseguire si tratta comunque di ah no invece possiamo proseguire attenzione visita molto avventurosa devo dire che anche io non mi spingo molto nel mio lavoro quotidiano fino a queste altezze di cms e possiamo tornare nel punto in cui eravamo in precedenza ma venendo dall'alto e devo dire che davvero la prospettiva da questo punto di vista è davvero grandioso qui potete abbiamo una bellissimo punto di vista sull'handcap che è questa parte se volete il tappo e e perché a questa forma notate che da quella parte invece abbiamo esattamente la stessa forma diciamo compatibile con essa questo perché quando noi chiudiamo il rivelatore di nuovo vogliamo che sia completamente ermetico che che non ci possa che le particelle non possono sfuggire senza essere ricostruite però non possiamo farlo tutto a fette piatte perché le particelle vengono prodotte soprattutto da angoli bassi quindi questo questo parte di rivelatore è quella che serve per ricostruire le particelle che hanno sono state prodotte ad un angolo basso e abbiamo tutti diversi strati che abbiamo anche nella parte cilindrica quindi i primi calorimetri che sono le prime due fettine poi un pezzo di calorimetro più grosso che è il calorimetro adronico e poi all'interno ci sono altri diciamo emelatori sempre per adroni pesanti che sono le particelle che riescono ad arrivare fino a quel punto all'interno poi della struttura e qui potete anche notare la bellissima razzera di camere a muoni vedete quelle con scritto m r tutte diciamo tutte non so se si leggono le scritte in verità tutte con i codici qui ognuno di questi moduli è un diverso rivelatore e cos'altro raccontarvi qua vedete anche quei sistemi rossi qui qui diciamo esatto quelli sono un sistema anti incendio che è stato testato solamente all'interno della caverna di cms e che è in grado di produrre schiuma in cui l'uomo può respirare ma che spegne chiaramente in grado di spegnere gli incendi e chiaramente è un sistema di sicurezza che non vogliamo utilizzare perché riempirebbe di schiuma la caverna in cinque minuti e distruggerebbe questa l'intero rivelatore ma si tratta di un sistema di sicurezza aggiuntivo e finale che è presente in tutte le caverne di lhc avete qualche domanda adesso che ci troviamo in questo punto così panoramico sul rivelatore così poi dopo ci spostiamo a farvi vedere il piano invece i piedoni allora io proseguirei volevo farvi notare comunque quanti piani ci sono circa cinque piani davide abbiamo una domanda di caso un secondo ma a ogni ciclo in cui l'acceleratore viene attivato quanta energia viene spesa in totale per ogni esperimento diciamo all'incirca l'energia utilizzata in totale per tenere acceso il lhc diciamo ogni collisione e questa domanda mi confermate esatto quanta energia in totale viene utilizzata in un giorno ad esempio allora la potenza istantanea del cern e corrisponde all'utilizzo di tutti gli acceleratori sistemi di raffreddamento che sono la parte se volete anche più costosa in termini di energia per tenere freddi i magneti e poi il funzionamento di cms funzionamento di acceleratori in genere mi pare che sia attorno ai 300 megawatt quindi una piccola città della provincia della regione lombardia diciamo un paese un paese di 20 mila persone all'incirca e molte energie infatti quest'anno per venire incontro appunto ai problemi legati alla crisi energetica chiaramente abbiamo ridotto di circa poi andrea tu sarai più preciso ma di circa tre settimane la presa dati in modo tale da ridurre il nostro consumo energetico in qualsiasi caso noi se volete usiamo energia pulita perché abbiamo una linea collegata in modo diretto con una centrale nucleare francese vicina e quindi ci rifornisce di questa potenza in modo diretto diciamo non siamo collegati all'enel 300 megawatt però diciamo questo se volete è il se volete il consumo totale quello invece della singola collisione dovete pensare che prodotte richieda energia nel senso una volta che tu hai accelerato le particelle all'interno dell'acceleratore la tua energia principale la stai spendendo nel tenere freddi magneti perché una volta che le particelle hanno 13 tere elettron volt che comunque sono tantissimi per delle particelle ma non sono tanti in termini macroscopici a quel punto le collisioni vengono fatte diciamo vengono collimati fasci i portoni vengono fatti collidere all'interno del rivelatore ma la maggior parte della potenza non va nella collisione diciamo va nel tenere freddo e attivo il sistema di rivelamento andiamo giù mi stavo facendo guidare da noemi ora andiamo a farvi vedere invece il pavimento e come diceva giacomo il sistema di trascinamento se volete il sistema di per spostare le diverse spette allora eccoci usate il piatone molti piani di scale allora abbiamo visto cms da sopra adesso lo vediamo da sotto non so quale delle due diciamo prospettive e più impressionante anche da sotto devo dire che ha un suo colpo d'occhio ma tutto con il pozzo e giacomo che saluta dalla superficie questo particolare castello di strutture questo castello giallo e diciamo viene mantenuto in posizione nel momento in cui la lenta viene chiuso per mantenere quella parte di rivelatore che abbastanza pesante il cosiddetto handicap forward quindi diciamo che mantiene i rivelatori ad angolo più grande se volete è molto pesante viene mantenuto in posizione da questo castello di ferro giallo poi possiamo notare altre strutture ah è interessante notare anche il garage cioè questo garage giallo è esattamente il posto dove viene viene inserito questo materiale quando non invece non è in corso la presa dati questo perché siccome quella parte di rivelatore quella l'angolo più alto è anche quella che riceve più radiazione quindi è quella parte che non perde mai del tutto la sua radioattività e quindi per poter lavorare in modo sicuro la inseriamo all'interno del garage se volete invece qui notiamo il sistema di tiranti si può dire che è necessario per spostare le diverse feste quindi adesso ci avvicineremo al piedone ma questi cavi di acciaio vengono inseriti all'interno delle diverse slice e vengono poi le diverse slice vengono poi mantenute sollevate attraverso un coscinetto d'aria e grazie a questo sistema di tensionamento possiamo poi tirare o spingere dall'altro lato le fette per tenerle per compattarle e tenerle diciamo in posizione e inserle in posizione chiaramente poi la posizione estrema e precisa del 10ms viene poi misurata con una serie di punti geodetici e di laser che misurano la posizione relativa alla caverna in modo tale che la sua precisione sia nota al millimetro ci avviciniamo ai piedoni questa è la struttura che giacomo stava citando prima è un coscento d'aria quindi quando viene pompata aria al suo interno solleva leggermente la struttura che ogni fetta è comunque pesante di circa qualche centrale tonnellate non sbaglio la fetta centrale migliaio che è quella con il magnete e quindi essenzialmente è possibile poi spostare anche con poco sforzo le diverse fette e questo è il vedete il condotto dove facciamo passare quei tiranti che vi mostravamo prima e che permette di allineare e farsi aiutare a spostare questi fette ora chiaramente questo sistema a certo certo abbiamo anche una cosa da mostrarvi quando il campo di cms campo medico cms attivo abbiamo circa quattro tesla all'interno del sud e solenoide che è un enorme campo magnetico poi chiaramente in questo momento è spento ma rimane comunque un magnetismo residuo all'interno dei materiali siccome questa base è fatta di ferro massiccio è magnetizzato e vedete che io sto prendendo delle graffette completamente normali ed è possibile collegarle si magnetizzano all'istante adesso il campo medico è spento da da prima di natale e quindi è possibile si sta un po' indebolendo però vedete che è comunque possibile tenere sospesi delle delle graffette completamente scolate tra di loro quando il campo magnetico è attivo noi possiamo entrare perché l'uomo può stare all'interno di un qualche tesla di campo magnetico quattro tesla sono solamente all'interno in genere più si è lontana più diminuisce non è un problema per la salute però è un problema per gli oggetti metallici infatti tutti gli strumenti che utilizziamo all'interno della caverna sono amagnetici quindi possiamo utilizzarli senza che volano via a volino via diciamo a danneggiare qualche rivelatore infatti se io avessi un normale martello partirebbe partirebbe via e volerebbe all'interno del magnete dove possiamo andare dove possiamo andare volevo mostrarvi questi comunque diciamo sistemi di se volete i pilastri su cui le sue slice si appoggiano veramente sono molto pesanti hanno bisogno di questi sistemi molto pesanti è un buon momento se volete fare delle domande vedete ancora uno di questi cavi collegato nei prossimi giorni stanno per chiudere quell'altra la fetta che abbiamo visto l'altro giorno scusate 10 minuti fa e lo faranno di nuovo in questi tiranti vedete che stanno predisponendo i cavi per la tesura e qui sono tutti dei punti vedete che ci sono dei punti cosiddetti geodetici che ci permettono di allineare esattamente la posizione relativa delle diverse effette e perché questo è molto importante che siano esattamente nella posizione in cui noi vogliamo perché se no il passaggio delle particelle risulterebbe misurato in modo scorretto c'è qualche domanda magari in particolare su quello che state vedendo io continuo a mostrarvi cose quindi non possiamo avvicinarci ai lavori in corso magari e qui possiamo giusto dare una sbirciata al detector aperto dal basso che devo dire che anche dal basso fa tutta la sua bella figura allora io risponderai verso la superficie nel frattempo se avete sentito le domande possiamo rispondere lascio già con una parola se avete poi delle domande su quello che state vedendo adesso ditemelo che vi mi fermo e ne parliamo arriva una domanda domanda semplicemente sapere ogni quanto viene acceso e messo in funzione allora lascio rispondere a voi perché perché adesso andiamo nel tunnel per risalire comunque questo è l'altro tappo vedete che il tappo che vedevamo dall'altro lato da questo lato ancora non è stato chiuso e quindi essenzialmente sarebbe stato anche così dall'altro lato se fosse stato aperto giacomo vuoi rispondere tu alla domanda sì la sto rispondere io allora diciamo così l'anno al CERN inizia con il detector spento e LHC spento perché viene utilizzato la prima parte dell'anno per fare possibile manutenzione o upgrade modifiche del rivelatore rivelatore o dei vari rivelatore nei vari esperimenti in genere poi viene acceso tra marzo o aprile viene acceso LHC e si iniziano con le prime collisioni prima vengono fatti dei test poche particelle bassa intensità bassa energia per poi piano piano accelerare sempre più particelle aumentare l'intensità quindi la quantità di protoni nelle nuvole che vengono accelerate all'interno del pipeline per poi arrivare a regime a questo punto siamo in piena presa dati va avanti per almeno fino a settembre ottobre dopodiché a seconda dei piani che sono stati decisi all'inizio dell'anno si può passare da protoni come aveva detto Davide a nuclei più pesanti come il piombo e si va avanti fino tendenzialmente alla fine di novembre dopodiché c'è di nuovo lo spegnimento per dare modo di operare ancora sul detector quindi di tornare a lavorare su LHC o sui vari esperimenti Alice, CMS e poterci mettere le mani sopra e ovviamente poi c'è la pausa di fine anno e Natale quindi il CERN si spopola questo è più o meno il piano che viene effettuato ogni anno però è vero che ogni due tre anni o quattro anni che si procede con questo ritmo ci sono delle pause più lunghe di anche tre o quattro anni in cui è veramente tutto fermo e non vengono fatte girare assolutamente particelle nel detector, nell'acceleratore e in genere si utilizzano quelli che vengono chiamati long shutdown vengono utilizzati per importanti upgrade o importanti riparazioni se devono essere effettuati sostituzioni materiali o pezzi degli esperimenti di cui normalmente una pausa di pochi mesi non è sufficiente Scusa Raffaele Figurati Giacomo Altre domande? Qual è stata l'ultima scoperta significativa fatta al CERN dall'acceleratore di particelle? Beh, la più importante ultima effettuata è quella del bosone di Higgs Magari l'avete conosciuto anche come particella di Dio anche se è un nome non molto ben voluto dai fisici e da quel momento uno dei ruoli di CMS e del CERN è effettuare delle misure più precise per quanto riguarda la massa di questa particella poter aver confermato la sua esistenza è stato importante però per poter supportare la teoria che ci sta dietro è necessario riuscire comunque a fare misure di precisione sulla sua massa Allora, se vuoi faccio un'aggiunta io alla tua domanda cioè il concetto di scoperta è un po' un concetto diciamo insensolato perché da un punto di vista di puro quello che si fa con i dati di un esperimento in fin dei conti è quello che nell'ambito della teoria di statistica o probabilità si chiama un test di ipotesi cioè dovete vedere che tipo di ipotesi sono confermate o non confermate dai tuoi dati sperimentali la maggior parte degli articoli che sono stati pubblicati da CMS sono stati in parte o delle misure molto precise di processi già noti che sono stati osservati ad altri acceleratori precedenti ma che è l'HC in grado di sondare con molta più precisione ad una scala di energia completamente diverse perché nessuno ti dice se la tua teoria che hai costruito per descrivere le proprietà di queste interazioni tra particelle sia valida a tutte le scale di energia anzi sappiamo che a un certo punto avremo bisogno di una teoria più vasta per spiegare i fenomeni di natura ma questa scala di energia non la potremo mai raggiungere con esperimenti mi sentite ancora scusate se vi interrompo vi mostro la sala di controllo sì dai vai pure poi dopo io continuo faccio un ruolo veloce proprio da scontrollare venite pure andiamo alla sala di controllo sono tornati al piano terra giusto per dire sì siamo in superficie ora farò velocemente perché è in corso il cosiddetto middle week global run quindi una settimana di test e anche se non abbiamo collisioni in questo momento ci permette di testare i nostri sistemi mantenere CMS diciamo acceso e di iniziare a prepararci all'arrivo delle nuove collisioni che sarà all'incirca attorno a Pasqua in questa stanza vedete che abbiamo una serie di infinita di schermi sono Francesca la chief leader del giorno in cui ogni diciamo persona ha diversi ruoli che permettono di lavorare sia diciamo in modo efficiente ma anche in modo sicuro all'interno per la presa di dati e all'interno del rivelatore qui abbiamo lo chief leader che se volete è il coordinatore di uno shift di 8 ore poi abbiamo gli esperti dell'acquisizione dati il cosiddetto di IQ esperti del trigger saluto la presente degli italiani come potete vedere è abbastanza frequente e abbiamo gli esperti del trigger e invece da questo dato abbiamo diverse intersezioni che in questo momento sono spente perché sono legate di più che altro alla qualità del fascio alla qualità delle collisioni che in questo momento non è presente e poi abbiamo il technical shifter che si occupa della sicurezza e degli allarmi della sicurezza dei sistemi dei sistemi di motoraggio e poi una serie di infitta dei sistemi di sicurezza come abbiamo già mostrato anche nella caverna e invece da questo altro lato abbiamo tutte le diverse postazioni dei diversi esperti del rivelatore che si trovano hanno una serie di scrivaniere per poter stare comodi durante la base dati e analizzare i dati provenienti da ogni singolo pezzo come dicevamo prima ci è messo il viso in fette ma anche in diversi strati ogni strato ha un diverso team di persone che ci lavora possiamo passare a questa parte magari Davide puoi anche far vedere l'esterno esatto ah sì sì stiamo passando l'ora da fuori vi raggiungiamo da fuori siamo ora all'esterno del punto 5 all'interno della bellissima campagna francese e questa è l'hangar dove è stato costruito ci è messo in superficie che adesso raggiungeremo ci riuniremo a Giacomo per concludere la visita chiaramente questi tubi che vedete sono tutti i sistemi di ariazione ad esempio che portano regolano l'aria dell'umidità dell'aria all'interno della caverna che chiaramente è un'atmosfera controllata ed eccoci dovete immaginare che qui in questa sezione quando c'è messo è stato calato all'interno del pozzo c'era un enorme gru che adesso non è stata spottata via perché non è più necessaria che seguiva appunto a calare i diversi pezzi pensate che la stessa gru che poi dopo aver finito di costruire c'è messo è stata portata in Sudafrica per costruire lo stadio dei mondiali di calcio ed eccoci rientriamo nell'hangar direi che posso darvi la parola a voi e ci rivediamo alla postazione interna Raffaele se vuoi continuare con la spiegazione ok allora continuo direttamente da qui dicevo da un lato moltissimi articoli che sono stati pubblicati sono misure di precisione di processi già noti un altro terzo diciamo sono riguardanti il bosone di X che è stato scoperto a LHC malgrado il fatto che da un punto di vista puramente teorico la sua esistenza come ispirazione di alcuni meccanismi che erano stati osservati precedentemente nell'ambito di collisioni tra particelle è stata fatta nella metà degli anni 60 infatti Peter Higgs Brute e Englert che sono gli altri che hanno compartecipato più o meno alla stessa formalizzazione del modello teorico è stato scritto a metà degli anni 60 e adesso a 80 hai passato anni quasi 90 quindi la scala entro cui da un punto di vista se volete matematico teorico certe predizioni vengono costruite e la scala di tempi entro cui hai la tecnologia in grado di poterli verificare oppure no di solito c'è un lasso di tempo non banale tra di essi basti pensare per esempio le onde gravitazionali che sono state scoperte pochi anni fa per la prima volta sono una derivazione diretta della teoria della relatività generale che Einstein ha iniziato a formulare ha formulato nei primi anni del novecento la pubblicazione finale poi è a metà degli anni 20 se ricordo bene ci sono voluti 80 anni di più di 80 anni e poi un altro terzo riguarda invece quelli che si chiama da un certo punto da un punto di vista diciamo più filosofico falsificazione di modelli cioè alcuni diciamo dalla teoria attuale vi sono alcuni limiti noti per cui la comunità di fisici teorici hanno sviluppato negli anni dei modelli alternativi o se volete che inglobano la nostra attuale conoscenza della fisica delle particelle in prevedendo dei nuovi fenomeni che potevano essere osservati alle energie di LHC ma non abbiamo osservato praticamente quasi tutti di questi fenomeni previsti da queste nuove teorie se andate in internet potete per esempio digitare alcune parole chiave tra cui supersimmetria supersimmetrie sono delle teorie che andavano molto di moda negli anni 80-90 nella comunità di fisici teorici che si occupano di interazioni fondamentali praticamente non sono state osservate nessuna delle interazioni supersimmetriche e quello che noi facciamo quindi anche per una certa parte del nostro tempo è quello di dire con i dati che abbiamo escludiamo che esistano queste nuove interazioni con questo livello di confidenza statistico probabilistico e questo migliora tanti più dati raccogli quindi il problema è che da un certo punto di vista la scoperta è una cosa che puoi fare sin da subito però con man mano che tu acquisisci più dati puoi fare misure sempre più precise o esclusioni sempre più precisi o caratterizzazioni di nuove scoperte sempre più precise poi diciamo la fisica teorica in teoria di campo cioè gli strumenti che uno utilizza per spiegare questo tipo di interazione prevede anche di poter far cioè possono succedere delle cose molto bizzarre se si fanno dei calcoli molto precisi per cui avere tanti dati e andare a sondare la precisione di queste predizioni è abbastanza importante per conoscere lo strumento con cui noi conosciamo e prevediamo i fenomeni microscopici poi non so se avete altre domande altrimenti mentre aspettiamo che Simone si colleghi dall'IT eh manca ancora un quarto d'ora ora quello che posso dirvi cinque minuti poi magari facciamo una pausa a meno che Giacomo Davide volete aggiungere qualcosa c'è ancora qualcosa sulla vostra agenda il tour è completo però se avete qualche domanda possiamo ancora rispondere esatto cos'altro vediamo se ci sono mani che si alzano in platea sì vedete altrimenti faccio io un altro tipo di commento insomma di riassunto di qualche cosa le domande sono tipo cos'è qualcosa arancio che è dietro di voi che sembra sottomarino ah questo allora questa è se non sbaglio è un pezzo di LEP che è l'acceleratore precedente a LHC che era nello stesso tunnel ma con dei rivelatori diversi andava di elettroni elettroni e positroni esatto eh LEPTON PROTONS no la sigla sì SL di sotto LEP comunque questa è una cavità acceleratrice se non sbaglio a radiofrequenza in cui essenzialmente le particelle per essere spinte all'interno dell'acceleratore chiaramente non possono essere spinte direttamente possono essere spinte direttamente ma devono essere spinte indirettamente attraverso una onda etromagnetica che crea una serie se volete un'onda di tensione elettrica se volete di campo magnetico ed elettrico che in cui le particelle che hanno una certa carica come gli elettroni passando vengono se volete sospinte spinte da questa onda questa onda per essere inserite all'interno di questa cavità risonante essenzialmente esatto le particelle arrivavano da questo punto e passano all'interno di questa cavità se non sbaglio per essere inserite in questo modo risonante le ondette magnetiche prima dovevano essere caricate all'interno di questa sfera che trovava connessa all'apparato in cui veniva creata questa onda risonante e poi veniva inserita se non sbaglio dai un calcio agli elettroni che stanno passando in quel momento lungo il tubo che adesso vediamo solo una piccola sezione ma gli elettroni passano lì sotto ricevono un calcio ulteriore e vengono ulteriormente accelerate per continuare poi alla prossima camera nel caso invece dell'HC abbiamo ancora delle cavità risonanti per accelerazione ma sono cavità radiofrequenze sono fatte in modo diverso soprattutto perché la massa dei protoni è diversa e il modo di accelerarli è un'energia anche diversa ci sono bisogno di diverse limitazioni ingegneristiche tecnologiche che necessitano in un'altra forma di componente accelerante però diciamo questo è un pezzo storico che si trova esposto qui ora c'è in MS se siete interessati a questo tipo di comunque pezzi storici in molti musei ad esempio un museo mi pare a Milano anche nel museo della scienza della tecnica ma anche a Parigi in altri musei si trovano spesso pezzi di LEP o dei suoi rivelatori che si chiamavano OLAP DELFI non ricordo Milano su quale mi pare su DELFI che forse lavorasse su quello invece nello stesso tunnel che quindi non è stato ricostruito invece è stato inserito LHC e sono state costruite nuove caverne a parte quella dell'HCB che mi pare sia la stessa sono state costruite nuove caverne per tenere al loro interno c'è messa la classe Alice se volete diciamo il paragone è un po' sbagliato però per darvi l'idea quella sfera che c'è sopra quel tubo è una cassa di risonanza come quella che avete in una chitarra cioè quando suonate una chitarra c'è una cassa di risonanza sotto che cerca di in qualche modo amplificare purificare il vostro suono in quel modo voi caricate diciamo una grossa quantità di energia elettromagnetica e se la rilasciate chiamiamo diciamo così in fase con il passaggio di un certo flusso di particelle potete fare in modo che queste particelle ricevano un impulso energetico e quindi come una spinta quando state diciamo su una bicicletta ma non volete pedalare una bicicletta senza pedali qualcuno vi spinge poi se non avete domande quello che posso magari potrebbe essere interessante siccome non avete ovviamente gli strumenti per poter capire o fare delle domande specifiche nelle caratteristiche delle teorie che si utilizzano per spiegare questi fenomeni dal punto di vista di aspetto tecnologico invece da un certo punto di vista la tecnologia siamo tutti immersi in un mondo che utilizza tecnologie informatiche molto spinte anche nei nostri smartphone eccetera dal punto di vista tecnologico le principali sfide di fare fisica delle alte energie che cosa sono come vi dicevo avere dei sensori che siano molto precisi nel caratterizzare queste particelle ma non soltanto molto precisi per esempio la parte più interna di CMS contiene dei sensori che sono dei pixel di silicio simili a quelli che avete in una macchina fotografica ovviamente la dimensione di questi pixel è ottima sono miniaturizzati in modo tale da avere una risoluzione che è molto migliore rispetto a quella che voi necessitate per fare una foto ad alta risoluzione però il problema è che questi pixel devono vivere in un ambiente dove c'è un sacco di radiazione perché queste particelle sono altamente energetiche quindi danneggiano il sensore i nostri smartphone non devono sopportare diciamo questi stress e anche degli stress dal punto di vista termico perché questi sensori non stanno a temperatura ambiente ma lavorano a meno 30 gradi centigradi e potete avere dei cicli termici perché il detector si accende si spegne avete tre tesla in mezzo tre tesla di campo magnetico che diciamo nessuno di noi sperimenta nella nostra vita quotidiana e la caratteristica aggiuntiva è anche le performance diciamo di velocità che l'elettronica che legge le informazioni di questi sensori deve avere perché quando noi per esempio facciamo una foto col nostro telefono quando vogliamo impostare per esempio una sequenza veloce di foto oppure facciamo un video abbiamo una certa frequenza di campionamento delle immagini che immagino sia delle centinaia di hertz vuol dire centinaia di fotogrammi al secondo ecco il problema di LHC che ne avete 40 miliardi 40 milioni perché siete 40 mili hertz che vuol dire che voi dovete acquisire ogni secondo 40 milioni di foto e per fare questo diciamo non potete utilizzare dei sistemi standard commerciali ma avete bisogno di qualcosa che sia particolarmente customizzato ovviamente ci sono anche alcune applicazioni commerciali che richiedono questo tipo di velocità o velocità simili per esempio nella diagnostica medica quando andate a fare degli esami di diagnostica nucleare a parte la velocità di campionamento avete poi anche il problema del filtraggio dei dati di cui Davide parlava precedentemente cioè se voi avete un'immagine a 40 megapixel e ne prendete 40 milioni al secondo dovete anche avere uno spazio per poterle salvare e diciamo non abbiamo la capacità di comprare così tanti dischi o diciamo rotanti o SSD ma nemmeno le fibre abbastanza veloci per leggerle tutti esatto esatto quindi quello che si fa o non abbiamo nemmeno la banda come diceva Davide diciamo per trasferire questi dati da un punto all'altro quindi quello che si deve fare è una scrematura nel momento stesso che voi state acquisendo cioè dovete decidere quali sono interessanti o meno ridurne la dimensione perché se ne riducete la dimensione potete trasferirli anche ad alta velocità perché alla fine il vero problema non è quanto è grande l'immagine ma il prodotto della grandezza dell'immagine per il numero di immagine che volete trasferire nell'unità di tempo sono la velocità dei link della vostra rete internet o dei vostri cavi che utilizzate per trasferire le informazioni quindi queste sono le principali sfide tecnologiche ovviamente anche nel nel mondo commerciale privato ci sono tante sfide anche simili o in parte simili ovviamente il data center di google deve supportare un numero di richieste altissime per secondo da tutti gli utenti che vogliono fare una ricerca o che vogliono accedere alle loro email o che vogliono utilizzare drive per scrivere un documento eccetera qui siamo in una situazione leggermente diversa che diciamo non si risolve semplicemente comprando centinaia 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 di computer commerciali ma richiede un sviluppo tecnologico che è più dedicato esatto la differenza anche con google ad esempio se uno va a vedere le statistiche di storage legge puro siamo abbastanza vicini ai dati prodotti in un anno da google o da facebook non da youtube che invece è esploso recentemente è fuori scala però essenzialmente la differenza è quella che loro nel caso di google si hanno data center sparsi in tutto il mondo di computer commerciali se vuoi nel nostro caso da un lato abbiamo la necessità di salvare questi dati per sempre e di avere un'alta fidelità di poter accedere a questi dati in modo strutturato e di utilizzarle per un'analisi precisa d'altro lato siamo molto più focalizzati nel senso che tutti i nostri dati provengono da qui provengono da qua sotto e poi vengono distribuite all'interno di quella che noi chiamiamo grid che è una rete di computer e di centri di calcolo delle università in tutto il mondo che lavorano su un po' come questi cluster di google però essenzialmente si tratta comunque di risorse di calcolo inferiori che vanno a lavorare su un po' di dati invece che comparabile quindi è una sfida sicuramente molto interessante poi certo gli sviluppi tecnologici nelle aziende o comunque esternamente alla ricerca negli ultimi anni sono stati anche loro accelerati e quindi adesso siamo anche noi che con i nostri upgrade andiamo a utilizzare anche nuove schede nuovi chip nuovi digitizer che provengono dallo sviluppo invece industriale e aggiornare i nostri rivelatori grazie a questi nuovi strumenti che sono diventati anche più più cheap più economici mentre magari negli anni 90 diciamo il cutting edge dell'elettronica proveniva dallo sviluppo interno al cerno forse forse in alcuni aspetti come diceva Raffaele noi saremo sempre più sul diciamo al bordo della ricerca perché appunto abbiamo questa necessità di questi ambienti estremi in termini di energia radiazioni però in altri aspetti possiamo anche approfittare di questi sviluppi tecnologici avere delle fibre più veloci dei processori che consumino meno energia grazie anche a tutto lo sviluppo che è stato necessario per gli smartphone elettronica di consumo e quindi essenzialmente nei prossimi anni quando faremo i nostri aggiornamenti per essere pronti alla fase 2 dell'HC utilizzeremo anche molto di questa tecnologia sviluppata più industriale ma comunque rimane attiva e importantissima la ricerca anche sull'elettronica la ricerca di base la ricerca di frontiera per quanto riguarda la resistenza alla radiazione e al campo magnetico esatto quindi per fare un riassunto che tipo di conoscenze expertise diverse lavorano in un esperimento come questo di fisica delle particelle la risposta è molteplici cioè c'è bisogno di persone che siano in grado di occuparsi della parte di calcolo distribuito scientifico di solito sia fisici che ingegneri chi sviluppa elettronica dedicata sia fisici che ingegneri chi fa diciamo gli articoli scientifici di solito quasi esclusivamente fisici di diverse diciamo non soltanto fisici più sperimentali come me Andrea ma anche teorici cioè che costruiscono il modello che costruiscono la infrastruttura matematica per fare queste predizioni e poi a parte questo che tipo di applicazioni ha tutto quello che facciamo noi sulla vita quotidiana ovviamente tutti i soldi che vengono spesi dal CERN si spendono per ricerca fondamentale nel senso che la maggior parte del budget va e come prodotto finale ha la scrittura o la pubblicazione di articoli scientifici però le ricadute tecnologiche sono molteplici innanzitutto perché il CERN non copre nessuno dei suoi progetti a meno di casi specifici di collaborazioni con aziende da copyright vuol dire che la maggior parte delle informazioni sono open a tutti quindi è anche dal punto di vista tecnologico si cerca di ovviamente non dal punto di vista di comprare un computer il CERN non fabbrica i suoi compiti li compra da Dell o da Kik Sakia con prodotti commerciali che sono coperti ovviamente da un certo copyright industriale però per tutto quello che viene sviluppato in modo dedicato le informazioni sono pubbliche e open e possono essere utilizzate come per accrescere il bagaglio conoscitivo diciamo di chiunque d'altro canto se pensate all'esempio più semplice che mi viene in mente è quello della medicina nucleare cioè dalle radiografie alla tacca alla pecca eccetera tutti questi strumenti sono fisica delle particelle cioè sono stati sviluppati sulla base del know-how che si è messo per costruire i primi esperimenti di fisica delle particelle e man mano ci sono gruppi al CERN che fanno di persone di ricercatori che si occupano soltanto di progetti di spin-off della tecnologia del rivelatore di fisica delle particelle all'applicazione in campo di fisica medica questo è un esempio diciamo più concreto di applicazione diretta vita quotidiana fisica delle particelle e poi ce ne sono molteplici per esempio tutta la parte di criogenia che deve essere sviluppata perché i magneti con cui si curvano i fasci di particelle non sono delle bobine a cui mettete della corrente e tutto va bene sono delle bobine di materiale particolare sono delle leghe metalliche che hanno proprietà o che possono avere proprietà di superconduzione a bassa temperatura cioè bassissima resistenza elettrica per essere portati a bassa temperatura dove a bassa temperatura vuol dire meno 270 e qualcosa gradi centigradi che è vicino prossimo a quello che si chiama zero termico assoluto quindi per poter portare questi materiali su una larga superficie a basse temperature c'è tutta una parte di sviluppo criogenico che ha anche poi impatto in altri sviluppi tecnologici se avete mai sentito parlare di quantum computer magari in internet sono diciamo è un campo di ricerca in fisica fisica dei materiali fisica teorica col quale si cerca di sviluppare delle nuove architetture che permettono di sviluppare dei calcoli sfruttando delle proprietà quantistiche della materia ma nella grande maggioranza dei casi queste devono essere fatte a temperature bassissime in quanto volete controllare alcuni parametri della materia che a temperature ordinarie non potete fare quindi la parte criogenica che è stata inventata principalmente in fisica delle particelle poi dopo si porta anche in altri ambiti abbiamo finito giusto dobbiamo fare la visita prima di salutarci dato che avete l'opportunità di chiedere direttamente a gente che è fisicamente lì al CERN e per voi Davide e Giappo dato che avete di fronte a voi 120 giovani studenti delle superiori che vogliono venire al CERN come si fa a venire lì? avete tre minuti di tempo per rispondere allora sicuramente studiare fisica è un buon punto ma non solo cioè si può fare un sacco anche di ingegneria e ci sarebbe buonissima qualità e ci sarebbe un sacco di informatica ad esempio allora noi io ho subito un percorso abbastanza classico ho studiato fisica in Bicocca poi sono venuto qui a fare un percorso abbastanza tecnico come Technical Student con uno stage diciamo al CERN e poi mi sono infilato anch'io nel fare delle analisi di fisica ma anche dei lavori più legati alla ricostruzione degli eventi più software Giacomo invece mi spiegare con te il tuo percorso beh molto simile anch'io ho studiato fisica in Bicocca dottorato in Bicocca dopodiché si è aperta la possibilità di venire qua al CERN l'ho accolta al volo ovviamente ringrazio il mio professore per questo e sto lavorando da allora qui al CERN il consiglio è che come diceva Davide ci sono delle collaborazioni tra il CERN le università e forse in alcuni casi anche gli istituti superiori non sono sicuro di questo ci sono anche dei progetti per le scuole superiori chiaramente quelli sono molto interessanti per passare di qui e vedere come funziona per andarci a lavorare nel senso non solo un prerequisito però il mio suggerimento è guardare il sito delle careers .cerne.ch perché essenzialmente ci sono moltissime più possibilità secondo me di quelle che si pensa di venire al CERN o chiaramente una volta che si è all'università di solito e per fare dei periodi di stage ci sono i cosiddetti technical student ma ci sono anche i summer student ci sono diversi tipi di possibilità per studenti per passare qua dei mesi e in genere la cosa abbastanza interessante è che quando si passa di qui e si viene a contatto con i gruppi di ricerca qui e poi comunque se si sta continuando a fare un percorso relativo a questi temi in genere si ha la possibilità di tornare o di fare altri tipi di stage dottorato eccetera le modalità di collaborare poi con i gruppi al CERN si trovano quindi se avete la possibilità controllate appunto possibili collaborazioni e se vi chiedono se volete andare al CERN ovviamente appuntatene comunque non solo fisica ma anche ingegneria informatica ingegneria dei materiali c'è tantissimo sviluppo sui materiali interno al CERN superfici materiali superconduttori magneti ma anche un sacco di elettronica anche un sacco di qualsiasi tipo di ingegneria nel senso se siete interessati specificamente a questo tipo di lavoro potete avere una possibilità di venire chiaramente anche fisica rimane comunque un buonissimo modo per passare almeno un vostro anno almeno un anno di studio al CERN in genere si fa e quindi sì nel senso chiaramente ci sono vari modi è un percorso sicuramente interessante che vi consigliamo di intraprendere la fisica ma anche l'ingegneria e non aspettate il dottorato questo è il punto guardate fin dal primo anno di università sì esatto ci sono molte più possibilità di quelle che si pensano dall'università di passare un periodo al CERN secondo me grazie Davide grazie Giacomo grazie a tutti non vi vediamo ma speriamo un saluto speriamo che la vista vi sia piaciuta e penso che la troverete anche poi registrata su YouTube se volete condividerla con familiari o con parenti che vi chiedono ma allora cos'è questo CERN esatto per farvi vedere un po' che cosa facciamo qui speriamo rivedervi di persona non so se avete sentito ma avete appena ricevuto un grande applauso da tutti grazie grazie mille un saluto buona giornata buona giornata ciao ciao grazie Zoltan grazie Noemi Nosti cameraman tecnici Grazie a tutti.